Buongiorno, sono Diego Caprioglio, ricercatore di chimica organica presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco. Possedere un linguaggio comune riconosciuto a livello globale è essenziale per permettere un immediato e corretto scambio di idee e passaggio di informazioni. Nell'ambito scientifico questo concetto diventa ancora più importante, dovendo trattare temi molto specifici e complessi, che quindi richiedono una solida ma semplice base. La tavola periodica, oltre che essere uno strumento che aiuta a comprendere le proprietà e il comportamento dei singoli elementi, è l'alfabeto universale con cui i chimici di tutto il mondo si interfacciano. La sua struttura non lineare non è casuale, ma è frutto di attenti osservazioni che nell'arco dei secoli, da quando Mendelew ne propose una prima versione nella seconda metà dell'Ottocento, hanno permesso di dare un ordine alle decine di elementi che compongono l'universo. Basandoci proprio sulla tavola periodica, abbiamo pensato ad un gioco da tavolo, ispirato alla classica tombola. Rispetto alla classica tombola, invece dei numeri, sono gli elementi chimici a fare da padrone. Sul sito troverete tutti i file necessari alla costruzione di questo gioco, a partire dalle cartelle, la tavola del croupier, un foglio con gli elementi chimici da ritagliare e le istruzioni. Dovrete solo procurarvi un bussolotto e della frutta secca per segnare gli elementi estratti. Questo gioco è pensato per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Buon divertimento! Buon divertimento! Buon divertimento! Buon divertimento! Buon divertimento!